Di scarica di Camatra in località Pitigliano nel comune di San Giustino, Sindaco Buschi, sembra ci sia una parziale svolta, però la vogliamo fare chiarezza una volta per tutte? Esatto, insieme al comitato che ringrazio perché in qualche modo ci ha reso più solerti su questo, abbiamo insistito con gli organi preposti che sono l'ARPA da una parte e la provincia dall'altra, provincia di Perugia, nel fare dei controlli che non lasciano dubbi su quello che era il conferimento. Occorre brevemente ricordare che le cave erano una bonifica di territorio degli anni 90, da dove era obbligatorio ritombare con terra vergine, poi diciamo che la legislazione si è voluta, quindi si è reso possibile anche ritombare con rifiuti speciali non pericolosi. Da questo punto di vista però ci sono delle norme che andavano ovviamente rispettate e c'è stata un'infrazione per quanto riguarda la miscelazione di rifiuti insieme a terreno vergine, che praticamente è 1 a 3, quindi un camion di rifiuti speciali non pericolosi e 3 di terra. Sembra che questa miscelazione non abbia i quantitativi esatti per leggi e quindi da questo punto di vista c'è stata una sospensione, ma noi diciamo anche di più, diciamo che devono essere fatti anche i carotaggi per verificare quello che è stato il pregresso. Quindi da questo punto di vista abbiamo rassicurazioni da parte dell'ARPA e della provincia, credo che dovranno essere effettuati anche i carotaggi e per poi diciamo da questo punto di vista stare più tranquilli e fare le opportune deduzioni. I carotaggi, il Comitato Salutiamo ha chiesto che vengano individuati insieme i punti dove fare i carotaggi. Lei su questo punto che cosa si sente di dire? Sono d'accordo, i carotaggi vanno proposti tutti assieme, nel senso che nella maggior trasparenza possibile, dopodiché insomma cercare di eliminare qualsiasi ragionevole dubbio cerca il futuro e la salute dei cittadini. Un'ultima cosa, c'è una scadenza temporale, credo il prossimo maggio dovrebbe terminare la convenzione. A questo punto qual è la posizione ufficiale del Comune? Esatto, diciamo quella era la scelta primaria, principale, che doveva operare il Comune. Chiaramente sul supporto degli organi preposti, che ancora una volta ridico, sono Arpa e Provincia. È chiaro che alla luce di questi fatti c'è una sospensione abbastanza lunga, non credo che il termine di maggio ci dia la possibilità di dare una proroga ulteriore, perché sicuramente i tempi sono stretti, quindi prima occorrerà fare tutte le verifiche e poi capire come in qualche modo risolvere comunque sia queste due ferite che nel territorio ci sono, perché è chiaro che anche se sospendiamo l'attività rimangono due buche che comunque vanno colmate, riempite e ripristinate il paesaggio ante bonifica.